È il momento di reagire, di cambiare la tua vita, di trovare una soluzione. È il momento di realizzare i tuoi sogni. Hai mai pensato di diventare un massaggiatore professionista? Diventare massaggiatore ti cambia la vita. Ti meriti un lavoro che ti renda speciale. Vieni con noi. Questa è la tua nuova vita. Grazie a tutti.